Ciao, sono Stefano Rabolini e sono un casting director. Il casting director è quella figura professionale che viene chiamata dal produttore o dal regista per scegliere gli attori di un film o di una serie tv. I migliori verranno selezionati per sostenere un callback. Al callback arrivano di solito 3-4 attori. In presenza dei callback ci sarà il regista e sempre il casting director. Da questo callback verrà selezionato l'attore o l'attrice per il ruolo da protagonista o per il ruolo del co-primario. Qui in Action Academy il mio compito è di preparare e di aiutare gli attori a tirare fuori il meglio di sé per sostenere un provino. Sempre in Action Academy svolgerò il mio compito di casting director aiutando i registi della parte creatività per scegliere gli attori per i loro cortometraggi. Allora ci vediamo in Action Academy, vi aspetto, ciao!